Martedì 2 ottobre 2018. Mancano 90 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda i Santissimi Angeli Custodi. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Angelo e Angela. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Spina. Dovrebbe derivare da uno dei vari toponimi presenti in Italia, oppure da un nome medievale come Crispino, ma la Spina è Spino, o anche dalla corona di spine come simbolo cristiano. Il cognome Spina è diffuso in tutta Italia, con maggiore concentrazione in Sicilia. La variante Spinelli è più tipica della Lombardia, mentre Spinella è presente nel Palermitano, Messinese e Catanese. Spinello ha un ceppo a Torino, uno in Veneto e uno in Sicilia. Spinetta ha nuclei in Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, mentre Spinetti è diffuso nell'area tra Liguria e Lazio. Spinetto, piuttosto raro, è del Genovese, mentre Spini lo troviamo in Lombardia e in Toscana. La Spina è Catanese, mentre Spinass è Sardo, di Cagliari in particolare. Accadde oggi. Il 2 ottobre del 1925 il fatturino britannico William Tainton è il primo uomo a comparire in televisione. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri al musicista inglese Sting, nato a Walsand il 2 ottobre 1951. La citazione da ricordare. Il modo migliore per aglietare te stesso è cercare di rallegrare qualcun altro. Mark Twain Dice il saggio Se ti piace il miele, devi sopportare le punture delle api. Proverbio marocchino Un consiglio al giorno Quando il tappo del barattolo non si svita, possiamo riempire una ciotola con dell'acqua calda e immergere il tappo per circa 60 secondi. Vedrete che ora sarà facilissimo aprire il barattolo. Dice il saggio Dice il saggio